Avanti con il programma senza strappi o scossoni, la Lucchese prosegue la marcia di avvicinamento all'inizio del campionato con la consapevolezza che mancano ancora delle pedine per completare lo scacchiere. Al netto del fatto che la data d'inizio della Serie C non è ancora definita a causa del ricorso del Campobasso al Consiglio di Stato, saranno le amichevoli a farla da padrone in questo mese di agosto che Mr. Maraia vuole sfruttare per creare il giusto clima nello spogliatoio. Dopo la sgambata con il Seravezza e quella con il Real Forte Querceta vinta dai rossoneri con un gol di testa di Semprini, arrivano adesso anche i primi appuntamenti ufficiali, ovvero amichevoli alle quali potranno finalmente assistere anche i tifosi. Giovedì, con calcio d'inizio alle 17.30, la Lucchese affronterà Tirrenia e la Pro Livorno, squadra di eccellenza fra le cui fila milita anche l'ex Elia Chianese. Un'occasione per riproporre anche nuovi schemi tattici come il 3-5-2 e per rivedere all'opera il nuovo centravanti Romero, che contro il Forte dei Marmi è stato tenuto precauzionalmente a riposo.